Ciao scimmia, sei pronta a vedere insieme a me la morning routine? Sì lo so che Luca è geloso, che io ti abbraccio sempre! Sì sei geloso, perché io abbraccio sempre scimmia e non te, è lui la mia scimmietta preferita! Guardate che bella, è vero? Io e scimmia oggi vi faremo vedere la mia morning routine, che cosa succede qui in questa casa durante la quarantena? Nella casa del pazzo, e dici bene, bravo, sei corretto, nella casa del pazzo cosa succede in questa morning routine? Ne vedrete delle belle, rimanete con noi, ricordatevi di mettere un pollicino su e di attivare le notifiche cliccando sulla campanella se mi vede Queen con scimmia, è gelosissima! Buongiorno principessa, ma dove vuoi andare? Buongiorno! Buongiorno! Vediamo se Luca è sveglio, vieni Queen andiamo a svegliarlo, andiamo a svegliarlo! Ragazzi Luca dorme come una mummia, vai Queen vai, vai vai, vai vai, vai vai! Vai, entra! Vai, entra! Vai, 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 vai! Buongiorno! 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 Cucu, buongiorno ti devi svegliare! Buongiorno! Svegliati Fa freddissimo E guarda qui dove si è messa Dov'è? Dov'è? È dentro Quindi Ogni mattina Ci sveglio io Vuoi che ti porti il caffè? Ma no dai ce l'ho io Dai te lo porto io Ciao Cucco buongiorno Che mani fredde Mani fredde e cuore caldo caro mio Dai su Che la giornata è lunga Sveglia Sveglia Ti devi svegliare Sveglia Perché io sono già sveglia Aspetta anzi Prima di tutto ragazzi Rifaccio il letto Guardatelo ora Ed eccolo qui Dormire sopra il lucernario Non è molto comodo Perché la luce mi sveglia la mattina presto Ecco perché sono così energica Perché mi sveglio presto Con la luce che insomma Mi sveglia lui Nell'oscurità E io sotto la luce Del giorno Guardate cosa vi faccio vedere Queen Queen Lolo Luca C'è Queen Dove? Me la dai? Ecco Ciao Ti sto facendo un video Perché dormi con Luca? Vieni a dormire con me Ma è entrata dentro e ne approfitto per dormire un altro po' buongiorno buongiorno ti ho portato Queen vieni Queen dormiamo altri dieci minuti buongiorno non vede l'ora di infilarsi sotto le coperte guarda dormiamo altri dieci minuti ma come no è tardissimo no dormiamo altri dieci minuti tu fai come vuoi io devo mettermi ad editare i video lo so tu vai io dormo dammi una macchina ma che pigiama usi Ibiza qui chi è Queen chi è guardate quanto è bella oh c'ha undici anni eh eppure se li porta bene come al militare e certo rifai pure tu il letto perchè lo rifaccio sempre io è una morning routine quindi per amor di dio rifai il letto almeno per la morning routine il letto? non lo chiudi lo lasci sempre sfatto così sembri una mummia guarda tutankamon perché va freddo non riesco a capire questo pezzo di corpo che cos'è è Queen questo fammela vedere apriti apriti ti prego apriti lo so che ti avrete ma fatta vedere ciao pupu va bene freddo 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 anche lei vieni con me amore buongiorno sei pronta anche tu alla colazione del mattino sembra sempre buio qui dentro ma perchè c'è il garage di lì c'è la tensostruttura vieni vieni i capelli sconvolti ho stamattina tu ce li hai sempre così non è stamattina ma come? si è vero ti sento sempre pettinata che si fa benissimo buongiorno a tutti ancora non gli ho messo in mente e sta leccando tutto questa è la mia colazione un caffè che verrò come se fosse inciupito ma questa è la mia morning routine ah è vero è vero subito dopo il caffè mi riempie la faccia di creme non è vero guzzardo mi metti un po' di succo quello che è lì ah si ma ti segui mi stai facendo aria perchè continua a camminare avanti e indietro mi sembra di avere la finestra aperta ho fame guarda un po' quello che ho è una ciambella golosa lo so ma io sono proprio sconvolto stammattina vi sembrerà che io sia mamma che faccia sconvolta no ma di brutto ma secondo me sono anche i capelli che fanno tutto così no non mi va grazie sto andando con il cuore no me lo sto andando con la tua mano che oltretutto è anche gelida mmm cucco mi vuoi bene cucco tanto le troglie bene ma non lo dici più non ho capito ma come? poi perde senso se continui a ripetare ho capito non ha più lo stesso valore diventa una parola abitudinaria e non deve essere così quindi ora non te lo dirò vieni tu vieni 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 che donna di casa o no queen queen ciao va messo a posto questo del caffè va messo a posto ma no quando lo lascio lì di solito da solo ritorna dove l'hai messo te si certo eh non so perchè ma smetti di prendermi ovunque vada ma perchè sei così agitato ti vuoi rilassare un attimo perchè tu non riesci a capire guarda guarda come hai lasciato le cose in ditorno no quando l'hai lasciato te di la verità l'hai lasciato tu ce ne siamo liberati ahahahahah guarda eh guarda come sei disordinato guarda questo che l'avevo messo qua beh molto tranquilla comunque al mattino visto che siamo sul suo canale siete suoi fan probabilmente didi non puoi parlare male di me sul mio canale ah i balli ci sono io occupato ciao ma tu sei scemo ma basta per me gli scherzi oi lu te ne combino una che veramente te la ricordi per il resto della vita tua stiamo facendo una doccia qua se è entrata pensavo fossero i fantasmi ah no aprivi aprivi ma mi deve chiudere mai questo è tutto scemo non questa è la fantastica doccia sauna che abbiamo in questa casa e vediamo un po' tadaaan luce accesa questo ecco guardate quanto vapore questi sono i miei capelli dobbiamo dare una bella gestata direi ai capelli la mattina perché quando non li lascio ricci e li pettino mentre li asciugo il risultato è questo cioè quello di una scopa ah eccomi che stai facendo? buongiorno vorrei ordinare da mangiare un menù piatina non ci sono i falafel potrei ordinare una vaschettina di falafel questa è la mia morning routine tutti i giorni faccio praticamente quasi sempre le stesse cose tranne quando ecco lo che sta arrivando si si so che è presto per ordinare del cibo perché appunto è mattina solo che io mi porto avanti so come sono le tempistiche quindi si ho capito ma tu non puoi alle 10 e mezza di mattina chiamare e ordinare delle cose kebab faccio ora che vuole entrare nel video ha ragione grazie per essere stati con noi anche qui vi mando un bacino magari vi farò vedere la morning routine anche di queen se volete scrivetemelo nei commenti ci vediamo al prossimo video sempre sul mio canale ciao così moscio ciao raga ciao a tutti ciao ciao riscrivetevi al mio canale ciao no dai bacino si un altro un altro un altro cagnolina tu sei il mio amore più grande ma questo è grasso l'amo troppo ciao ragazzi vediamo al prossimo video ciao 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 ciao